Faccio io il ciak Ciak Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo format che si chiama Il Salotto di Momo Siamo un salotto, sono Momo, quindi Recentemente ho fatto un sondaggio su Instagram in cui chiedevo se potesse interessare fare dei video in cui spiego delle canzoni arabe, il loro significato, eccetera e il 99% ha detto di sì e il restante 1% vorrei dire... La canzone che ho scelto oggi è di un artista egiziano Figo Egiziano Figo Lo chiamano infatti il Momo egiziano È un sex symbol, lui nasce come attore e poi adesso fa anche il cantante che si chiama Mohamed Ramadam Ed eccolo qui La canzone è diventata famosissima su TikTok dove ha fatto un boom di ascolti e si chiama Boom Boom Che vogliamo di parole, infatti La canzone è tutto un programma, quindi non togliamo altro tempo ed ecco a voi l'intro Il mood l'abbiamo capito, è tutto festaiolo, discoteca si fa ballare, ma passiamo direttamente alla canzone al testo che secondo me è tutta una poesia La traduzione qual è? Mohamed Ramadam dice Il mio amico mi ha chiamato e mi ha detto usciamo Mi ha provato a passare un drink e gli ho detto No fratello, io non bevo Ho ordinato un succo, visto che non bevo Ma non era succo Mi sa che sto bevendo E adesso comincio a vedere uccellini che cantano È la mia testa che fa Sì, lo so cosa state pensando Sono più figo io Che ti rivedi? No no E infatti Raissa per quello mi ha scelto Ma questo non c'entra La canzone va poi avanti con Mohamed Ramadam che racconta la sua odissea in quella che è probabilmente la sua prima sbronza Che pivellino Suppongo anch'io perché per vedere gli uccellini che cantano è proprio la prima Ma andiamo direttamente all'ultima strofa quella che conclude questo viaggio Mohamed va avanti a raccontare e quindi dice Ero lì che mi facevo gli affari miei Ragazzi, ho appena visto una coppia di quegli alieni Ma mamma mia, ma questo non era solo Eh no, non sa che c'era qualcos'altro Le mie palpebre Le mie palpebre sono giù La mia testa è piena di fumo come fosse una guerra mondiale E la mia testa che fa La mia testa è piena di fumo Se avete delle altre canzoni che vorreste farmi fare Lasciatela pure nei commenti Ringrazio Raisa che ha fatto da fuoriscena rompiscatole Sì, vai dire, questo è il salotto di Momo Questo era il salotto di Momo Spero vi sia piaciuto Se vi è piaciuto sicuramente ci vedremo alla prossima canzone Peace E salam Ciao 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 Ciao